Veceministro, dopo tanti anni si parla di vaccino, di nuovo contro l'HIV. Da medico le dico, quanto sarebbe importante avere un vaccino contro l'HIV? Sicuramente è fondamentale, da quando si parla di HIV e di AIDS che si parla di vaccino, sarebbe la rivoluzione del secolo, riuscire ad avere un vaccino contro la diffusione di una malattia che nel nostro paese è contenuta come nel resto dell'Europa, ma pensiamo ad esempio all'Africa, il numero di vittime e di pazienti che vengono infettati ogni giorno. Al volo quanto costa però un paziente di HIV che magari troppo tardi si accorge di avere questa malattia e oltre ad avere un problema di salute è anche un costo per il sistema sanitario? Costa troppo, nel senso che è molto meglio fare una diagnosi precoce per due ragioni, la prima è per il paziente stesso. Una diagnosi precoce consente di fare la terapia quanto prima, di consentire a quel paziente stesso di fare una vita sovrapponibile a quella di un soggetto non affetto da HIV, anche relazionale, penso ai rapporti che possono avere il marito e moglie quando la viremia è così bassa che non consente la trasmissione della malattia. Penso ad esempio a una donna incinta che se conosce di avere l'HIV prima di rimanere incinta può fare la profilassi e non trasmetterla al bambino che avrà in grembo. E poi chiaramente i costi sanitari perché è chiaro che una malattia scoperta più avanti ha anche le complicanze della malattia stessa. Quindi al di là dei costi dei farmaci antiretrovirali sono anche i costi delle eventuali complicanze che l'HIV quando diventa AIDS porta con sé. Allora professore, sono anni che si parla di un vaccino anti-HIV e adesso c'è questo studio che appunto sta valutando se ci siamo oppure no. Perché è importante raggiungere appunto avere un vaccino? È importante perché possiamo ricominciare a crederci dopo 35 anni perché i primi studi sul vaccino sono partiti nell'85. Quando abbiamo scoperto il virus si è pensato che fosse più facile sviluppare un vaccino che trovare una terapia contro l'HIV. La storia ha dimostrato l'esatto contrario, cioè sviluppare un vaccino è stato difficilissimo. Il virus ha la capacità di evadere la risposta umorale che sono gli anticorpi cambiando la sua superficie e soprattutto, questo ha sorpreso un po' di più, è spiazzato un po' di più, è capace anche di evadere la risposta cellulo-mediata da parte delle cellule immunocompetenti che sono dirette contro i geni che codificano la replicazione del virus. Il primo studio accettabile sul piano di risultati è stato uno studio fatto in Thailandia dagli americani che lo conducevano nel 2009 che è uscito con risultati che davano una protezione vaccinale pulendo tantissimo lo studio del 31% che è molto bassa perché per arrivare a un vaccino che abbia qualche probabilità di essere efficace sulla popolazione target bisogna arrivare al limite del 50%. Non soltanto questo è stato un punto di partenza un po' debole ma negli anni successivi hanno fatto un altro paio di studi con gli stessi candidati vaccinali che erano Alva e Vaxides che hanno dimostrato in Sudafrica che era un'area geografica ancora più intrigante dal punto di vista dell'applicazione in termini di prevenzione hanno dato risultati perfino inferiori perché il cled virale di quella popolazione non era il B contro il quale era diretto il vaccino tainandese. Senta, parlando di prevenzione invece, io parlavo tempo fa col compianto professore Aiuti e lui mi diceva che si parla dell'HIV solo nella giornata mondiale, poi non si parla più ma se non diciamo ai giovani quali sono i comportamenti giusti, le misure di protezione giusta questo virus continua a diffondersi in realtà. Perché è importante la diagnosi precoce? È importante la diagnosi precoce perché anche il vaccino che è uno strumento difficile da realizzare preventivo, difficile da realizzare e di cui stiamo parlando oggi delle prime sperimentazioni che arriveranno a dimostrare se efficaci tra due o tre anni non può far dimenticare che bisogna far emergere sommersi, quindi la diagnosi precoce che la TASP, quindi il trattamento antiretrovirale dei soggetti seropositivi è quello che protegge zero casi negli studi partner dalla trasmissione del virus almeno al partner sessuale abituato, che c'è la PrEP, cioè la prevenzione farmacologica e che c'è tutto un elementario di consigli dal punto di vista del rapporto medico-paziente ma anche delle istituzioni con la popolazione che sono il preservativo, i rapporti sessuali in qualche modo meditati e quindi tutta una serie di comportamenti sul piano delle modalità di contenimento del rischio di trasmissione di malattie sessualmente trasmesse che sia d'accompagnamento e in un armamentario complesso che va comunicato alla popolazione a rischio.